bello a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video in questo video molto 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 veloce volevo farvi vedere un metodo molto rapido per farmare in grambi eccelsi data che presente probabilmente un altro ennesimo bug nelle loot cave presenti nel cosmodromo una e ce ne sono tre in totale due le trovate qua nello spartiacque come potete vedere nel video appena arrivate nella zona subito sulla destra in fondo c'è una zona in cui potete farmare appunto come potete vedere dei vandali con la vita gialla e dei cavalieri cioè dei cavalieri dei capitani sempre con la vita gialla che vi permettono di droppare appunto degli engrammi eccelsi questo lo potete fare soltanto quando avete la sintonizzazione eccelsa nel vostro personaggio quindi avete due drop due drop giornalieri mentre la terza zona questa è l'altra zona che trovate in sempre nel cosmodromo ma nell'osservatorio celeste e apparirà un cavaliere o comunque qualsiasi pg qualsiasi avversario con combattente con la vita gialla la possibilità di dropparvi un un eccelso quindi due nello spartiacque uno nel video come avete visto sulla destra e uno subito sulla sinistra e uno nell'osservatorio celeste in realtà nell'osservatorio celeste è praticamente tutta la mappa tutta la zona che vi droppa droppa eccelso dato che ogni 15 minuti c'è un un evento dove i nemici si schierano l'uno contro l'altro come vedete in questa clip e ci sono tantissimi tantissimi con la vita gialla e niente bella a tutti alla prossimo video e buon farming bella bella